Abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parashah, siamo oggi iniziato la festa di Chanukah, quanto è importante questa festa di Chanukah, la festa di luce, la festa delle miracoli. Abbiamo un po' parlare sulle parashot, e dopo vediamo si riusciamo a collegarlo alla storia di Chanukah. La verità, che già in la parasha scorza troviamo la storia di Chanukah. Quando Yaakov Avinu va via della casa di Lavan, ha paura, ritornandoci a incontrare il suo fratello Esav. E noi sappiamo che prima dell'incontro con il fratello di Esav, Yaakov Avinu passa il fiume, viene chiamato Ma'avari Abok. Anche questo Ma'avari Abok, dovete sapere, secondo Erzoar, ci sono tantissimi secreti a questo fiume che viene passato. Non la dobbiamo vedere letterale, come uno che passa un fiume. Sì, ovvio che è letterale, però c'è molto, molto addietro. Il Midrash racconta che questo fiume era un fiume molto violento. Yaakov Avinu con la sua forza, aveva bisogno di fare passare la sua famiglia uno per uno. Dopo che lui ha fatto passare tutta la famiglia, lui si ricorda che ha dimenticato qualcosa. Qual è la cosa che lui ha dimenticato? Un piccolo abbroca, una piccola ampulio di olio. Ha detto, Yaakov Avinu ho dimenticato, una piccola ampulio di olio. Debo ritornare per andare a prendere questo olio. I beh, la domanda è, perché è così importante ritornare? Per un piccolo ampulio di olio, per una piccola broca di olio? Che succede? Non è che Yaakov Avinu lo mancava soldi? Non è che a Yaakov Avinu mancava qualcosa? Perché era così importante ritornare per una cosa che non ha un valore così alto? In behemezza di Kim, le maestri indicano che quando Yaakov Avinu è ritornato per questo ampulio di olio, è venuto l'angelo di Aesà combattere con lui. La guerra, che era la guerra famosa tra l'angelo e Iacob Avinu, gli fa parentesi in Zadikim. Le maestri dicano che questo olio era l'olio che fu salvato e guardato nel Betta Migdash. Gli anni dopo, quando le greci sono venute in la terra di Israele e hanno divietato al popolo ebraico sia il studio della Torah, sia il Shabbat, sia la Milà, sia che ogni donna che si sposava nella notte che si sposava la prima notte aveva bisogno di andare con il capo delle greci. Questa era una guerra spirituale, una guerra spirituale forte. E dopo che hanno vinto miracolosicamente pochi, è un miracolo, pochi contro, potete immaginare l'imperia greca, quando era l'imperia più forte nel mondo, e quando loro vanno al Betta Migdash, e vogliono accendere la menorah, dovete sapere che di solito la menorah veniva accendo con un olio che è un olio puro. Che voglio dire un olio puro? Noi oggi siamo tutti impuri. Perché? L'impurità delle morti. L'impurità delle morti è una cosa che viene trasmesso. Se un ebreo tocca un morto, e dopo lui tocca un altro ebreo, questo ebreo è impuro. E dopo questo ebreo tocca un altro ebreo, anche lui si impura. In altre parole dicono le maestre, noi già quando usciamo dalla pancia nostra madre siamo impuri, perché già le nostre madri erano impuri, perché tutti sono impuri. Però l'olio che si usava per accendere la menorah era un olio che fu affatto delle koanim, e la purità, quando erano pur. Dicano le maestre, dice il Midrash, questo piccolo ampulio di olio che fu trovato in Chanukah, è il piccolo ampulio di olio che Yaacov vino e è ritornato per andare a prendere. Il lato di chi Yaacov vino contro l'angelo di Esa e loro iniziano a combattere. I behemet, se vediamo bene, chi vince questa guerra? Chi vince questa guerra? Yaacov vino. Però c'è un posto, c'è un posto dove questo angelo riesce a toccare Yaacov vino. E dove questo angelo riesce a toccare Yaacov vino? Dove sta il nervo sciatico. Là, nel tutto il posto del corpo di Yaacov, là il nervo sciatico, là è l'angelo di Esa e il satana anche viene chiamato, riesce a toccare. E la domanda, se lui sta perdendo la guerra contro Yaacov, ovvio che era una guerra spirituale, non immaginare che uno va a combattere con l'angelo in un modo fisico, no? Questa guerra che c'era nella parasha scorza, va a vecchissimo, l'angelo combatte con Yaacov, era una guerra spirituale. E dove riesce a toccarlo questo angelo? Al nervo sciatico. Dicano le maestri perché? Il nervo sciatico sta all'altezzo della gamba, all'altezzo dell'organo dell'uomo dove si prolifica. Dice l'angelo, io ti posso toccare solo in un posto, dove? All'altezza della gamba, da dove l'uomo si prolifico. E dobbiamo capire. Però, lo che è molto interessante, che quando Yaacov ha vinto combattere questo angelo, la parola che la Torah usa, è vaiavec ishimo. Che vuol dire vaiavec? E qui i tzadikini debete sapere che la parola vaiavec può essere traduta in due modi. Vaiavec, la prima traduzione, è che sono andato colpendo proprio guerra, uno contro l'altro. Però la parola vaiavec in ebraico è molto simile alla parola vaiavec. Vaiavec è meglio che il contrario della guerra. Vaiavec voglio dire abbracciare. Quindi, c'è bisogno a capire che succede qui con l'angelo. Yaacov ha vinto, sta compadendo l'angelo. O la sta abbracciando. Sono due cose totalmente distinte. I Mehmet, prima di rispondere a questo, l'agmara dice Chi è facile aveva questo angelo? L'agmara chiede e l'agmara dà due risposte. La faccia dell'angelo di Esar è la faccia del rabbino. Una barba, una kippah, sì, nero bianco. E l'angelo, perché dovete sapere che quando l'angelo scende su questo mondo di solito prende una forma umana, una forma di un uomo spirituale, di un tzadik. Dell'altro lato, dice l'agmara no, aveva la faccia di un criminale. Questi tipi di gente che solo vedere la loro faccia ti fa paura. Solo vedere una faccia così e scappi. Questa era la faccia dell'angelo di Esar. e anche qui abbiamo due contrasti contradditori al 100%. Osea, o che l'angelo è un rabbino, o l'angelo è un criminale. Che vuoi dire? Questo angelo ha due facce. Quindi, vediamo sempre una discussione. e in un posto la Torah dice si sono combattuto, l'altro posto la Torah spiega no, si sono abbracciato. In un posto si dice che era il rabbino, l'altro posto dice no, era un criminale. Chi è questo Esar? Che vuole questo Esar? Sadiqim? Dicano le maestre molto semplici. Esar, Eliezer Haran ha due modi di combatterti. E il primo modo ti voglio uccidere fisicamente. Come abbiamo visto. Come hanno voluto i nazisti. Come hanno voluto l'inquisizione di Spagna. Come hanno fatto questi animali il 7 di ottobre. La volontà di distruggere fisicamente il popolo ebraico. E Baruch Hashem Sadiqim? Non sono mai riuscito. Anzi, quando Esar arriva con la faccia del criminale, non solo che allontana il popolo ebraico del creatore, anzi, il popolo era sempre più forte dopo combattere. Però, dicano le maestre, di questo non dobbiamo avere paura. Quando dobbiamo avere paura? quando è l'angelo di Esava è il faccio del rabbino. E ti viene e ti abbraccia. E ti dice perché tu devi essere ebreo, devi essere così strano, devi comportare in un modo così diverso. Vieni, vai parte da noi, andiamo insieme all'università, andiamo insieme, vediamo una partita di calcio, andiamo a mangiare insieme nel ristorante, io e te siamo uguali, abbracciare, dicano le maestre, questo è la similizzazione. Noi, negli ultimi cento anni abbiamo avuto due olocausto, c'era la Shoah nera e c'era la Shoah bianca. Qual è la differenza? Di una maestra è molto semplice, la Shoah nera sono morte sei milioni di ebrei. Hanno sacrificato il loro corpo solo per il fatto che sono ebrei. La Gemara già dice, un ebreo che muore solo per il fatto di esserci ebrei va subito nel paradiso, nel posto più alto che esiste, sotto il trono di Akkadosh Barucho. C'erano rabbini grandi che pregano tutta la loro vita, il Shuhana Ruh, il Beit Yosef, quello che ha scritto nel libro di Alachah nostra, tutta la sua vita pregato che potrà avere il merito di morire per la gloria del creatore. Perché morire per la gloria del creatore non è un scelto che uno poi prenda. E la scelta che deve fare è che sarà così come che c'era nell'Occosta esattamente sei milioni di ebrei. Per ognuno di loro è un Kadosh. Ognuno di loro è un santo. Questo è lo che noi dobbiamo sapere. Però il Zaddik c'era un Olocosto molto più peggio. E questo è l'Olocosto che abbia vissuto il popolo ebraico in America. Più di venti milioni di ebrei, non sei milioni, venti milioni di ebrei si sono assimilati. Che vuol dire assimilare? Sposare con non ebrei? Perdere le tradizioni? Perdere le valori? Perdere e il modo che la nostra religione dice che si deve comportare? È una generazione, due generazioni e abbiamo perso tantissimi libri. Dicano le maestri, quando Esa viene con la faccia del criminale, è vero, abbiamo paura del criminale, però una paura momentaria per il futuro del popolo ebraico, loro mai riusciranno a distruggere. perché sempre, non importa che succederà, farà, che questo popolo continuerà. Però quando viene con un faccio di un rabbino, viene abbracciare, dice sai con noi, con valori nostro, Facebook nostro, Instagram nostro, moda nostro, film nostro, Netflix nostro, sì, tutte queste cose, vieni, vieni a essere come noi, parli come noi, mangi come noi, comportati come noi, vestiti come noi, quello è più pericoloso, molto, molto più pericoloso. Però, l'angelo non ha fatto toccare Iacov, perché Iacov già era sposato, Iacov aveva quattro figli, Iacov aveva fatto undici figli, tutti ebrei, tutti i tzadikim, tutti i doshim, ha detto l'angelo io ho perso la battaglia contro di te, però ti tocco nel nuovo sciatico, le tue nipoti, le tue figli, le figli delle tue nipoti, delle tue nipoti, chissà se loro avranno forza a combattere il rabbino, e qui tzadikim, dobbiamo capire che succede qui, perché Iacov avvino deve ritornare per un olio che sarà un olio puro, tzadikim, la menorah, che simboleggia la menorah, la menorah simboleggia la illuminazione, chi mer mitzvah, vetorah, oro, la candela che illumina questo mondo sono le mitzvot, e la luce che illumina queste candele sono la torah, non abbiamo un'altra verità in questo mondo fuori della torah, che è la sola verità assoluta, è la sola luce assoluta, tzadikim, loro hanno cercato olio puro, perché hanno cercato olio puro, che succederà se tu fai la menorah con olio che non è puro, e fino del mondo, va bene, non c'è, che tutto, non abbiamo trovato olio, va bene, andiamo al negozio e compriamo olio che non è fatto in un modo puro, che non è fatto del koanin, non è fatto in un modo rituale, santificato, che succede? Anzi, c'è un alah che se non si trova olio puro, si può usare olio non puro, c'è un alah che dice è un concepto, non ve lo deve salutare su questo concepto, un concepto che dice che per il kaal, per il beneficio del pubblico a volte si può usare anche una cosa impura per santificare, quindi, che succedeva se non trovavano olio puro? questo è esattamente il punto, noi, la guerra contro le greci non era una guerra con il criminale, non era una guerra fisica, questa è la storia di Puren, Chanukah è una guerra spirituale, Chanukah è una guerra contro la luce che ci sta dentro da te, contro la torace che sta dentro di te, per le greci, gli ebrei potevano vivere, non c'è nessun problema, però devono rinunziare la loro religione, l'elenismo, l'emancipazione, fare parte del mondo globale, non essere antico e non essere diverso, e per questo, per combattere questo, c'era bisogno esattamente un olio puro, un ampulo di un olio puro, e per questo Iacobino è pronto anche a morire per un odio puro, il lavoro nostro è cercato di purificare, santificare il Chanukah, però vediamo, se riusciamo a collegare la storia anche a Iosef, Iosef Tzadikin è la nostra parasha, ha sogni, che lui sogna, due sogni, il primo sogno, ci sono covoni, che si inclinano, lui sta nel mezzo, e tutti si inclinano a lui, e Iosef, lui dice, questo non è un sogno normale, questo è una sogna di una profezia, e c'è una che si è scendita da una profezia, non la può mantenere per tu stesso, un profetto che ha ricevuto una profezia da dare e non la dà di ben morire, perché chi ti dà il permesso di mantenere per te, e Iosef ha detto una profezia, perché noi sappiamo che ci sono tanti tipi di profezie, uno dei tipi delle profezie sono sogni, perché c'è scritto subito le fratelli lo odiavano per questo, lo odiavano per le sue sogni, e la domanda che si deve chiedere, scusa, perché tu odia qualcuno per una profezia che fu data? E qui c'è la grande discussione tra le fratelli e Giuseppe, quando uno sogno ci sono tanti tipi di sogni, ci sono sogni che sono profezie, e però, dice la Gmarà, la maggioranza delle profezie, la trattata di Brahot, sono pensieri che uno ha pensato di giorno. dicono alle fratelli, fratelli, tu sai perché tu stai sognando di notte covono e che inclinano a te, non è una profezia, è perché tu tutto il giorno pensi che sei più importante da noi, tutto il giorno pensi che tu governerai, tutto il giorno pensi che tu sei il re, quindi è ovvio che di notte quando sogni, tu sogni che tu sei il re più importante e tutti ti si inclinano a te. Però il secondo sogno, dopo il secondo sogno non c'è scritto che loro lo odiano, perché? Perché il secondo sogno è diverso. Questa volta non solo le undici stelle si inclinano, però anche il sole che rappresenta Jaco e anche la luna che rappresenta la madre. E qui, dopo questo sogno la Torah non dice che le fratelli hanno odiato di più. Perché? Perché sì. Può essere che tu stai immaginando che noi fratelli ti incliniamo, però sicuro tu non immagina che il padre sta inclinando a te. Questo già è una profezia. Non fa parte della tua immaginazione. Il tzadikin Yosef arriva a cercare alle fratelli Jacop dice che Yosef non sono come i fratelli. E Yosef arriva alla e shimon velevida lontano vedano Yosef e venuto il tempo e uccidano. Adiamo uccidano Yosef. Lui che sempre parla male di noi. Perché la Torah racconta che Yosef vedeva che le fratelli facevano cosa non bene e dove subito dire al padre. Si può fare una cosa così? Si può raccontare al padre cosa che tuo fratello fa che non è giusto? La verità che è molto interessante. No? È considerato la shonara o non è considerato la shonara? Perché che vede Yosef? Yosef vede che loro fanno cose che non si deve fare. Trattano male i figli e i figli delle concubini mangiano carne che forse non è 100% cashier e si sa entrare in esattamente lo che hanno detto. Yosef va a raccontare a papà e le fratelli si arrabbiano. Perché arrabbiate? Il padre ha l'obbligo di educare. Quando il fratello vede che il suo fratello non si comporta bene deve andare al padre a raccontarlo, no? Dice papà vedi tu sai che il mio fratello sta facendo così così. Tu come padre forse riesci a fare qualcosa forse riesci a educarlo. Quindi dov'è il sbaglio di Yosef? E la domanda più grande noi sappiamo che quando un ebreo fa una mitzvah di una mitzvah mai uscirà male. Debete sapere questa cosa di chi? Quando un uomo fa una mitzvah mai abbiamo visto che un ebreo perde una mitzvah. E se ti sembra che stai perdendo adesso sto per il momento perché hai speso soldi o hai speso tempo o non hai fatto lo che hai voluto fare dovete sapere che nel fino si guadagna. Fra parentesi questo è la forza degli Ezerarà e gli Ezerarà lui ti paga cash ti dà subito ricompensa no? Hai fatto un peccato subito ti fa godere di questo peccato. Sì? Un ladro che va a robare subito gode. un uomo che mangia qualcosa che non va bene subito gode. Un uomo che fa qualcosa che non deve fare desiderio lo suo e tutto quanto subito e gli Ezerarà ti paga subito. E gli Ezerarà non è così. Il pagamento è un pagamento eterno un pagamento reale non è un pagamento instante però una cosa ancora prima di parlare con il padre e qual è questo obbligo? Vai a parlare prima con i tuoi fratelli e i tuoi fratelli non si comportano bene vai prima a parlare con loro di prima a loro perché fate così? Perché vi comportate così? Perché parlate male sulle fili delle schiavi perché mangiate carne in un modo che non si deve mangiare? Dopo che hai parlato con i fratelli dopo che hai cercato tu stai a sistemare la cosa e hai visto che questa cosa non aiuta solo là puoi andare a parlare con il padre questo è una cosa importante dovete sapere che un uomo ha un obbligo per improvare un uomo quando qualcosa lo disturba ha un obbligo raccontarlo e dove lo sappiamo? La Torah te dice lo tisna et achicha bilvavecha che voglio dire non puoi odiare il tuo fratello addentro il tuo cuore qui tzadikim fra parentesi il fratello non è un fratello carnal quella questo è il ebreo è il tuo fratello il fratello spirituale siamo amichad tutto il popolo è collegato dice la Torah un ebreo ha un divieto odiare un fratello suo un altro ebreo come lui tzadikim io ce l'ho una domanda come la Torah mi può comandare su sentimenti la Torah mi può dire vedi non vendicarti di quello che tu odio non fare male questo capisco però Hashem chiede non odiare qualcuno o scusa odio un sentimento non è che uno governa i suoi sentimenti che tipo di richiesta è questa noi sappiamo che a volte ci sono gente uno fa qualcosa male all'altro e di conseguenza di questa cosa che succede lui odia l'altro non è che lui la vuole per forza fare una cosa interna a volte con cosa ti distruba a volte con cosa non ti va e non è che vedi che la Torah ti dice non odiare il tuo fratello in il tuo cuore tzadikim l'essesso opposto dove la Torah ti racconta non odiare il tuo fratello in il tuo cuore la Torah ti dice anche un'altra cosa tu vedi che tuo fratello stai sbagliando tu vedi che il fratello ti ha fatto qualcosa tu vedi che ti hanno offeso tu vedi che ti hanno fatto qualcosa torto non lasciare la cosa dentro tu hai un obbligo andare e dire a quell'altro vedi amico mio ovvio in un modo bello e anche non subito quando sei arrabbiato il giorno dopo la settimana dopo quando ti sei calmato un po' vai dire tu sai mi sono offeso tu sai che questa cosa che hai fatto mi ha fatto molto dolore tu sai che questa cosa non si fa non si comporta così Dio le maestri sapi se tu rimprovi se tu lo che ce l'hai addentro fai uscire fuori vedrai che non odierai nessuno quando nasce l'odio l'odio nasce quando la offesa viene ingoiato e un'altra volta ti fa un torto e tu la ingoi e un'altra volta lui ti fa una cosa e tu rimani silenziosa e tu pensi che di rimanere silenziosa tu sei un grande tzaddik perché perché tu non racconti tu lasci passare sì è vero lasciare passare la cosa più bella però solo se questa cosa non ti disturba solo se tu davvero riesci a fare quando si dice che il tzaddik fa passare lo che fanno a lui non voglio dire che lui fa passare così no fa passare quando riesce sentimentalmente non essere arrabbiato che riesce a essere pulito però se tu non riesci a essere pulito e addentro il tuo cuore tu ce l'hai ancora addentro il tuo cuore tu senti una cosa negativa attraverso l'altro non puoi dire lasciare passare anzi tu stai facendo un divieto perché nel fino questa cosa ti porterà a odiare l'altra ti dice che tu non puoi odiare quindi tzaddikim quando la cosa ti disturba fai uscire fuori e vedrai che avrai la capacità di amare qualsiasi ebreo e questo tzaddikim una cosa importante e là in questo appunto Giuseppe ha sbagliato ha sbagliato nel senso che non ha sistemato subito non è ha dato subito parlare con suo padre in questo senso forse Giuseppe dice la Torah non era maturo ancora 17 anni così dice la Torah sistemava le capelli sistemava i suoi occhi e qui capiamo che c'è diciamo un punto di come la chiamo questo adolescenza se ancora non era maturo al cento per cento perché se era maturo poteva confrontare le sbagli delle sue fratelli in un altro modo è ovvio che le sue intenzioni erano positive questo è anche il lavoro nostro il lavoro nostro è purificare il nostro cuore vedere che non ci stai ancora vedere che non ci sta arrabbiato o attraverso il perdono completo al cento por cento da dentro che tu riesci è questo un livello molto alto tu non sei in questo livello parli fa uscire questa cosa ovvio vedi le kerez dice la Gemara il momento che uno è arrabbiato non vai a parlare con lui non fa senso perché quando l'uomo è arrabbiato non ti senti anche se tu la vuoi quando lui si tranquillizza sa di chi però Yosef è collegato a Hanukkah Yosef un ragazzo di 16 anni dice la Gemara che Yosef era una delle uomini più belle del mondo va a Egitto e là una tentazione dopo l'altra viene la moglie di Potifar di Shemirash cambiava sui vestiti due volte al giorno non solo questo metteva un vestito solo una volta non metteva due volte un vestito solo perché per fare cadere Giuseppe solo che Giuseppe cadera voleva fare che lui farà peccati che lui andrà contro lo che il suo padre lo ha insegnato e questo è l'olio puro siamo ebrei non possiamo fare tutto con chi vogliamo quando vogliamo no ci guarda come ci comportiamo voi sarete luce agli altri popoli però ovvio che per essere luce agli altri popoli ti deve prima essere luce per tu stesso e questo Tzadikin Giuseppe era in Egitto Giuseppe ha potuto combattere ma questo è Chanukah però dovete sapere qualcosa qual è il miracolo vero qual è il miracolo vero di Chanukah qual è il miracolo vero il miracolo vero Tzadikin non è che pochi hanno vinto tanti no non è quello sì è un miracolo però non è il miracolo vero il miracolo vero non è che un poco di olio ha bruciato invece di un giorno otto giorni sì è un miracolo però quello non è il miracolo vero qual è il miracolo vero Tzadikin la Chanukah secondo la Kabbalah la devi mettere sotto otto tefari scusa sotto dieci tefari quindi si dieci tefari sotto otanta centimitro lì l'agmara anche si la Chanukah fomesso sotto otanta centimitro è un posto kassar anzi le grande chakamim la metano sotto otanta perché perché c'è un halaccio c'è un halaccio che la schichina la presenza divina non può andare basso più di ottanta centimetri da dove la sappiamo della sukkah noi facciamo la sukkah la sukkah viene chiamato la sukkah è la casa del creatore la sukkah è dove c'è la schichina la presenza divina abbiamo detto che in sukkot non cercare di fare chidusha dentro casa perché no dove sta la schichina in sukkot sta dentro la sukkah però c'è una che l'altezza della sukkah deve essere almeno 80 centimetri una sukkah che è più basso di 80 centimetri non è cashera perché non è cashera o che la schichina la presenza divina non scende sotto 80 centimetri dicano le maestri otto giorni al anni la schichina scende al punto più basso anche più basso di 80 centimetri c'è anche una storia sempre come Chanukah c'è Amman che vuole uccidere il popolo ebraico e anche succede un miracolo però lo che succede al non è paragonabile a Chanukah perché il popolo stava in un problema e ha pregato il popolo stava in un problema e hanno digiunato tre giorni il popolo ebraico ha cambiato il suo comportamento anche Yonah quando Yonah va a Ninveh e dice che vuole uccidere questa città sinora non cambieranno Ninveh ha cambiato le sue azioni come tutti le grandi miracoli nel popolo ebraico c'erano cambiamenti il popolo ebraico deve uscire d'Egitto erano scesi fino al porto più basso delle impurità 49 porte impurità e hanno fatto qualcosa hanno fatto teshuvah hanno fatto milah hanno fatto il sacrificio di Pesach però a Chanukah non c'è teshuvah non si racconta che il popolo ha digiunato o il popolo ha fatto qualcosa ha pregato no maggioranza del popolo stava con le greci e ha detto va bene che male un po' di lenismo un po' di illuminizzazione più di filosofia greca un po' di 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 sagenza greca qual'è il problema sadikim nel Chanukah Kadosh Baruch Hu non ha aspettato per noi Kadosh Baruch Hu è sceso sotto il punto più basso da soli questo è il miracolo di Chanukah non che abbiamo vinto la guerra sì però anche l'olio ha fatto un giorno era otto giorni è il miracolo vero che a Kadosh Baruch Hu di solito quando un ebreo non si avvicina quando un ebreo non fa teshuvah quando un ebreo non ha il suo modo di comportamento perché ti deve portare un miracolo però il Chanukah mi ha fatto vedere una cosa che non importa fai teshuvah non fai teshuvah fai digiuno non fai digiuno io sento che nel punto più basso che c'è per arrivare fino a te che si fa in Chanukah si inclina n'acqua perché di sempre la chumica è sotto all'altezza dell'uomo si inclina con il fuoco fino a basso e si illumina la benora questo è Chanukah si inclina nel doppio basso e illumina la Chanukah non c'è un ebreo non c'è un ebreo che non lo piace la chumica la festa delle lume su Ganyot non ci sono Yom Tor non è come Shabbat non è come Pesach non ci sono restrizioni spirituali spirituali o materiali anzi sono tutti i giorni feriali però la luce scende a dentro il col a dentro il feriale e sa di chi questo è il lavoro nostro in questi giorni sapere che anche nel punto più basso si può illuminare però qual è il modo di illuminare che ne e l'estudio della tera l'amici o non mi c'è un fai una c'è un c'è un c'è un c'è un d'bà t'essapere lì che v'alatania ma'at m'in ha choshè scuzzi ma'at m'in ha m'agrish a b'choshè ho po di lusse mandabia tanta os corita non c'è bisogno fare cose drastici, non ci sono bisogno fare cose colossali, no le cambiamenti vengono attraverso la candela di Chanukah una piccola candela di notte e così, una piccola mitzvah che uno inserisce dentro casa una piccola cambiazione un shabbat più, un tefilà più un tefilin più, un zitzit più per mangiare più casher senza cosher stare, con cosher stare avvicinarsi questo tzadikim è Chanukah il Kadosh Baruchu ti dice una candela e una candela e una candela, ti sembra niente però tutti questi candeli insieme, quanto luce danno è questo tzadikim perché noi facciamo la Chanukah che si fa? senti Michele, va bene, ho sceso la Chanukah adesso che devo fare? tzadikim, dovete sapere che si fa dopo di accendere la Chanukah si prende una sedia al lato delle Chanukah si sede e si guarda dentro la luce e si riflette si riflette su questa piccola fiametta che sembra piccola però quanto luce dà? non per niente la Chanukah deve essere accesa di notte perché è la notte tu puoi vedere quanto luce dà e la fiamma baila e tu vedi la fiamma baila va sotto, 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 sotto la fiamma, sì ha tre colori anche il blu il giallo il rosso anche là c'è un messaggio molto, molto, molto profondo a volte è rosso a volte ha arrabbiature a volte la vita è blu è depressione a volte sta nel mezzo sì è giallo siamo stabili tutto va bene però sì c'è fuoco il fuoco può incassare tutto dentro il fuoco ci può essere blu ci può essere rosso ci può essere giallo ci può essere caldo ci può essere freddo ci può essere la depressione ci può essere l'ampiatura però è addentro il fuoco questa cosa può essere reparato ci siamo sotto la mitzvah sotto la Torah sotto la presenza divina di Hashem tutti queste cose possono essere sistemato e combattere è giudato Hashem c'è Dicchim che Hashem ci aiuta accendere la nostra candela che Hashem ci aiuta accendere le candeli dell'alto che Hashem ci aiuta portare la luce fino a che arriverà l'oro del Mashiach la luce del Mashiach dove la luce di Hashem non sarà un candela sarà rivelato in un modo così come dice il profetto la luna diventerà il sole e il sole non possiamo immaginare che diventerà della luce della spiritualità dell'armonia della perfezione che ci sarà bezzato la luce del Mashiach Shabbat Shabbat Shalom